Trani, capoluogo della sesta provincia pugliese, e Podgorizza, capitale del Montenegro, studiano un asse vincente fra turismo ed economia. Tutto ruota intorno a rifiuti ed energia. A Trani esiste una delle poche discariche pubbliche dell'intero meridione. A Podgorizza l'unico di tutto il Montenegro realizzata da aziende italiane. Su queste premesse si può innescare uno scambio proficuo di competenze ed opportunità che coinvolgono le aziende municipalizzate di igiene urbana ed energetica tranesi. Lo prevede il protocollo d'intesa siglato tra il sindaco di Trani Giuseppe Tarantini ed il suo collega di Podgorizza, Mio Mir Mugosa. Tutte queste cose sono molto belle, contribuiscono a promuovere il nome della nostra città ben oltre i confini nazionali e nella fattispecie credo che per quanto riguarda l'esperienza del Montenegro noi possiamo sicuramente esportare conoscenze ed esperienza nel campo della raccolta dello smaltimento dei rifiuti con Amiu mentre abbiamo la possibilità, se è possibile, sarei molto felice, se sarà possibile di importare energia dal Montenegro attraverso Amet. Oltre a rifiuti ed energia Trani e Podgorizza pensano anche al turismo, quello balneare soprattutto. Le presenze oltre adriatico si sono quadruplicate in pochi anni ma mancano i servizi a sostegno. A fare da tramite dell'operazione l'ex deputato europeo Marcello Vernola. L'ospicio è che nasca un rapporto di collaborazione stretta sui servizi pubblici locali fra le due città e che possa nascere anche una promozione congiunta sotto il profilo turistico del territorio delle due città.